Ma stai facendo con questo male il caffolo! Amore, amatizia! Sì, papà! Rispondi? Sì! A poco che dò? Sì! Poco prezzo? Sì! E vieni con me! Annazzo, qual è il gesto? Rosso setano! Oddio! Cerchi di amandati! Oddio! Lo sapevo prezzo? Sì, papà! No! No! Perché? Non ti posso dire! Cappezzeria! Pari al nuovo! Eh, mamma... Vuoi sapere il chilometro? Sì! No! Perché? 70.000 chilometri! Mamma mia! Quanto abbiamo prezzo? Sì! No! Rispondi! 1.600 euro! Che è una macchina? 3.000 euro! GPL! GPL! Mamma mia! GPL! 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 GPL!